ciao a tutti amici e amiche del genuano atipico questo era un video inizialmente non previsto però un dialogo avuto con un amico via social mi ha ispirato un ragionamento mi ha ispirato una riflessione un ragionamento praticamente in questo dialogo stavamo confrontandoci sul sulla parola dipendente utilizzata da andres blaskets se non erro nell'intervista tele nord forse anche in quella calcio finanza ma sicuramente quella in quella tele nord ha utilizzata e quindi sull'importanza che da dipendente lui cioè le sue parole potrebbero avere in senso di concretezza in senso di credibilità e di decisionalità beh io capisco che per come siamo abituati a vedere il calcio fino a questo momento sia facile pensare che essendo dipendente la sua credibilità sia pari a zero ma non è secondo me così per le proprietà straniere o i gruppi addirittura proprietari di club se vogliamo andare a generalizzare come proprietà straniere possiamo vedere che anche ad esempio al milan anno chi parla per chi ci mette i soldi non è quasi mai chi ci mette i soldi a parlare o c'è il signor staroni o c'è l'ibraimovic che prima era malini ma sarà di turno ma raramente si sente parlare chi davvero ci mette i soldi se non mai perché perché questi rimangono sempre un po' nell'ombra ma questo è un modo di fare che non è solo del milan o addirittura ci metto anche il palermo di mezzo anche palermo qui ha dei dipendenti che il gruppo city group ha dei dipendenti che parlano per conto di chi ci mette i soldi nonostante questo sono riusciti a fare il centro sportivo ad esempio quindi ci sono concretezze anche a livello di rapporti territoriali da parte di questi dipendenti che però portano avanti la volontà la volontà di chi i soldi ce li mette concretamente e blaskets è un dipendente di questo tipo a mio avviso cioè è uno di quei dipendenti che fa parte del gruppo del gruppo centrale cioè gli sti gruppe scusate del 777 gruppo ma è ovviamente colui che da questo gruppo è stato mandato a occuparsi del genoa cfc e questo fa sì che possa diciamo essere attendibile quando a mio avviso quando parla delle volontà e delle progettualità del 777 football group nei confronti del genoa non prendo le sue come promesse ma come comunicazioni di quelli che sono gli obiettivi semplicemente ecco la differenza forse e mi rendo conto che tramite il modo di fare che hanno questi questi soggetti ripeto non solo la genoa che noi abbiamo ancora una mentalità italiana e una mentalità in cui chi è il presidente anche colui che ci mette sempre la faccia e parla non è più così in questo tipo di calcio non è più così ora anche per dire gli amministratori delegati piuttosto che i direttori sportivi fanno le veci dei loro presidenti l'unico l'unico che forse non ha ancora fatto tanto così è la fiorentina perché commiscia è stato sempre abbastanza presente almeno prima della morte di giù barone dalle altre parti ho visto sia parma che a milano sponda milano e anche sponda inter volendo che anche a a genova stessa genova ovviamente sponda rosso blu che a palermo per fare alcuni esempi ho sempre visto dei dipendenti parlare per conto della società eppure quello che hanno detto era veramente poi l'obiettivo societario di per crescere questo cosa mi fa pensare mi fa pensare che come tifosi italiani rivedere tra le tante cose ma qui uscirei dal dall'argomento del video dovremmo rivedere anche il modo di interpretare i ruoli e il modo di comunicare e gestire perché perché anche la parola dipendente deve avere un altro valore per essere compresa a fondo nell'ottica di come questi gruppi gestiscono i loro club questo non vuol dire che sia il modo migliore o il modo peggiore non sto valutando questo sto solo notando che rispetto a quello che noi siamo abituati c'è una differenza e se questa differenza non viene inglobata capita probabilmente difficilmente si darà credibilità a tutto ciò che ci succederà intorno o che sentiremo dire perché ricordiamoci che il dipendente blaskets è lo stesso che aveva detto che di fianco a zangrillo aveva confermato non in one ear detto da wonder e anche wonder comunque fatevelo dire era un dipendente nel senso di che abbiamo detto precedentemente era il dipendente che in quel momento rappresentava la proprietà però siamo sempre lì quindi attenzione alla alla definizione che si dà al termine dipendente perché in effetti non è proprietà blaskets il genoa e proprietà 777 che è un gruppo così come non è proprietà di ibraimovic il milan ibraimovic sta facendo le veci di chi c'è dietro non è proprietà di mirri il palermo o di di sanquis è proprietà del city group e loro stanno facendo le veci di queste persone e poi c'è neanche un altro palermo ancora non ricordo come si chiami che anche lui ancora più contatti diretti con il city group però non è lui il proprietario fondamentale il mio invito quindi è quello di andare a capire come si muovono questi gruppi questi macro gruppi e non ragionare con l'italiana per capire la credibilità quantomeno delle loro parole o la o la fondatezza perché posso perché questi personaggi come come il nostro amministratore delegato blaskets non fanno altro che riportare qui in italia la volontà di chi da mi ami da londra comanda il gruppo può piacere può non piacere la situazione a quanto vedo da qualche anno a questa parte in qualche club e da qualche anno a questa parte nel genoa è questo mica piacere però mi ha fatto piacere che aver avuto questo dialogo con questo amico perché in effetti non mi ero mai reso conto di come ci fosse differenza di visione tra la mentalità italiana e quella straniera e quindi non ho mai anche avuto modo di ragionarci forse troppo io cioè davo per scontata la cosa senza ragionare su questo dettaglio quindi vi chiedo se voi innanzitutto se avete notato anche voi la differenza di mentalità se siete d'accordo con me nel dire che il dipendente nel loro logica ha comunque una sua importanza e infine se secondo voi questo modo di gestire il calcio può essere un modo buono anche nel nostro paese su questo io aspetto ovviamente di valutare credo che ogni società darà la sua risposta perché ognuno poi avrà i suoi risultati nel tempo fatemi sapere tutto questo e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti io vi do appuntamento a un prossimo video un saluto a tutti dal vostro generale tipico ciao